E' ancora aperto il caso politico di Taranto dove il sindaco Rinaldo Melucci del PD ha ritirato le deleghe all'assessora del Movimento 5 Stelle Maria Lupino, una rottura che potrebbe incrinare l'alleanza PD 5 Stelle anche a livello regionale. L'estromissione dell'assessora è seguita nei giorni scorsi alle dichiarazioni di stampa del referente politico provinciale dei pentastellati Francesco Nevoli che, in sostanza, sull'ex Silva, aveva invitato a non appassionarsi allo strumento dell'accordo di programma ma a preoccuparsi della sostanza e non della forma. Della questione e dei suoi possibili riverberi se ne starebbe occupando anche il governatore Michele Emiliano provando a ricucire lo strappo con Giuseppe Conte. Uno strappo aggravato dal fatto che Taranto è anche la città del vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Intanto il capogruppo alla regione Puglia, Marco Galante, getta acqua sul fuoco. No, nessuno ha mai messo in discussione l'alleanza in regione. La questione Taranto è sicuramente, ci vuole un'attenzione nazionale perché è quindi anche regionale, ma non da mettere in discussione tutti i vari rapporti che noi abbiamo con i gruppi di centro-sinistra e del campo progressista. Su Taranto ci sono comunque dei chiarimenti in corso per comprendere effettivamente se quel programma, quell'accordo che ha fatto parte della campagna elettorale è ancora valido e forte. Se l'assessore resterà fuori cosa succederà? Noi siamo fiduciosi come da interlocuzioni in corso in questo momento e in questi giorni perché il chiarimento forse servirà anche ai cittadini per comprendere meglio cosa vogliamo per Taranto, cosa c'è scritto, cosa era scritto e cosa pretendiamo che venga messo in atto in questo accordo, in questo programma elettorale che adesso noi abbiamo all'interno dell'amministrazione. Il caso interseca ai livelli superiori rispetto a quelli cittadini anche perché sullo sfondo della questione sarebbe in corso una interlocuzione tra il sindaco Melucci e il gruppo Azione Italia Viva all'opposizione in regione per precisa presa di posizione del governatore spalleggiato proprio dai 5 Stelle. Avevamo già annunciato in campagna elettorale che probabilmente con i 5 Stelle era facile vincere le elezioni ma difficile governare e siamo arrivati dopo qualche mese ad avere ragione. Sui fatti siamo stati presenti, sull'accordo di programma sposiamo la linea di fermezza del sindaco per chiedere il rispetto dei diritti al lavoro, alla salute, alla sicurezza ambientale e alla buona produttività. Ovviamente il Movimento 5 Stelle si è mostrato immaturo e per questo l'abbiamo redarguito. Sarebbe un colpo di scena se il consigliere regionale Massimiliano Stellato, ex civico di Emiliano e fresco di passaggio a Italia Viva che è anche consigliere comunale a Taranto, tornasse in maggioranza nella sua città pur essendo stato uno dei fautori della caduta di Melucci nella scorsa consigliatura. Guardi, abbiamo raccontato che non ci appassiona questa o l'altra poltrona. Abbiamo deciso di stare dalla parte dei fatti concreti, delle cose da fare, dei progetti da realizzare. Su questi possiamo dire che siamo dalla maggioranza di Tarantini.